Benvenuti su Gossip Globe. Prima di iniziare ricorda di mettere un like, seguire la pagina e attivare la campanella per restare sempre aggiornato. Pare che il principe Harry stia per tornare a Londra. Il motivo sono gli Invictus Games, i giochi paralimpici fondati proprio dallo stesso Harry. L'evento sarà a maggio e il giovane, ormai ex-principe, farà il suo ritorno a casa per l'evento. Un ritorno che accende la speranza di una riconciliazione con William e Kate, ma gli esperti sono scettici. Harry tornerà a Londra durante un periodo molto delicato che la Royal Family sta affrontando, con Re Carlo e Kate impegnati nella loro lotta contro il cancro. I problemi familiari con Harry potrebbero addirittura passare in secondo piano. Quello che è certo è che le tensioni familiari, per tutto quello che è accaduto in passato, sono difficili da sanare con un solo incontro. Si dubita fortemente della presenza di Meghan Markle all'evento, temendo possa aumentare le discordie. Nonostante i problemi di salute di Kate, la riappacificazione tra Harry e William sembra improbabile. Harry esprime amore per la famiglia durante un'intervista, sperando che le difficoltà possano riavvicinarli, ma il futuro è ancora molto incerto. E tu cosa ne pensi? E tu cosa ne pensi?